Un consiglio comunale infuocato, quello dedicato alle problematiche dei dipendenti dell'Ente, è stato uno dei consigli monotematici che già dalla precedente amministrazione sono stati convocati, utilizzati per discutere di materie su argomenti specifici. Lunga e dettagliata la relazione sul piano prestabilito per il personale. Nella realtà ormai il dipendente pubblico, secondo il principio che è passato, proprio utilizzando quello che c'erano, anzi non si è provata, è soltanto diventato uno strumento per far cazza a livello stradale. Non potrà sfuggire anche una legge con il blocco del turno, con la impossibilità, da un lato, di poter andare in pensione, con la legge Romero, che è rigida in uscita, e dall'altro lato con le varie finanziarie che hanno bloccato la formazione del dipendente pubblico. Si viene a verificare un paradosso, secondo il quale molti dipendenti hanno un'età in un'atica abbastanza avanzata e non possono andare in pensione. E dall'altro lato non consentiamo ai giovani di poter accedere ai pubblici concorsi e quindi poter ripintuare la passata. Ma con questa finita forma di federalismo fiscale, cosa succede? Si carica sui comuni alcuni servizi grossi di alcuni comuni e aumentano le adizionali, sia comunali che regionali. Quindi non solo non aumentano gli stipendi, ma gli stipendi vengono a dirgli. Questo non dice il dipendente pubblico che l'ha vissuto solo bene, prima di essere un assessore a questo momento del Comune del Comune del Comune. Numerosi gli interventi dei sindacalisti presenti, tra il pubblico anche numerosi dipendenti e le lavoratrici delle imprese e delle pulizie che non percepiscono stipendio da molti mesi. I sindacati continuano a battere sulla condizione dei precari, sugli scatti di servizio dei dipendenti piazziani, le cosiddette progressioni verticali. In definitiva malumore e scontento da parte di tutti, dinnanzi ad un'amministrazione che ha apposentemente ascoltato ed infine provato a rispondere.